Se io fossi lucida, Leonard, allora ti direi che combatto nell'oscurità, in un buio totale che io sola conosco. Perché io sola conosco la mia vera condizione. Tu convivi con un terrore, hai detto. Col terrore che io possa porre fine ai miei giorni. Ma ci convivo anch'io. E questo è un mio diritto. È un diritto che a ogni essere umano, che anche al paziente più miserabile e reietto è concesso di poter decidere della propria cura, del proprio destino. Io non scelgo la soffocante anestesia dei suborghi, ma le violente scosse della capitale. È questa la mia scelta. Vorrei tanto poter godere di questa quiete, sai? Davvero. Ma se la scelta obbligata è tra Richmond e la morte, io scelgo la morte.